Era il 21 aprile 2020 quando in una manzarda di Levane si consumò l'atroce delitto. Qui, infatti, Bilal Miya, quarantenne originario del Bangladesh, uccise la figlioletta di appena 4 anni e tentò lo stesso sul figlio, che però riuscì a mettersi il salvo, rifugiandosi dai vicini. Poi, in prada ad un profondo stato confusionale, si gettò nel posto del giardino nel tentativo di togliersi la vita. Adesso è arrivata la notifica di chiusura indagini che si erano fermate nel momento in cui il quarantenne era stato riconosciuto totalmente incapace di intendere volere e non in grado dunque di partecipare ad un processo. L'udienza preliminare sarà così fissata breve. L'uomo, in seguito all'omicidio, era stato trasferito all'interno di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza una REMS, l'ex ospedale giudiziario a Montelupo, Fiorentino. Qui cure e trattamenti a cui è stato sottoposto lo hanno aiutato a riprendere lucidità anche se è proprio in questo contesto che i medici gli hanno riconosciuto una patologia psichiatrica che un anno fa lo aveva portato a togliere la vita alla figlia. Nel frattempo, la perizia psichiatrica più recente lo ha valutato in grado di sostenere un processo ma per il quarantenne comunque non si apriranno mai le porte della corte d'assise ne verrà mai pronunciato un verdetto pesantissimo perché nonostante oria sia meglio quando uccise non era in grado di autodeterminarsi per una situazione psicopatologica grave il quarantenne infine adesso ha deciso di devolvere alla moglie e al figlio la pensione che gli è stata riconosciuta proprio per la patologia psichica. Grazie